Iaia e Lenny parla di due ragazzi, due giovani, che cercano la loro dimensione esistenziale all'interno di un paesaggio post-apocalittico, che però non è così truce e terribile come tanti altri film post-apocalittici, perché invece è ricoperto di giungla, quindi è pieno di verde e speranza. Molti complimenti ci fanno dicendo che bei disegni, in realtà non è niente disegnato, è tutto fatto in 3D. Siamo prima con la scrittura, poi iniziamo a progettare i personaggi. Questi personaggi, la prima cosa che devono fare è avere una personalità, quindi devono diventare delle persone e a questo contribuiscono gli attori. In un film di animazione si registrano prima le voci, prima di qualsiasi altra cosa, e quindi gli attori lavorano spesso e volentieri, anche separati, quindi non si incontrano. Infatti è stato divertente, alla prima del film le abbiamo dovuti presentare, persone che comunque avevano rappresentato delle complesse emotività di collegamento, anche di interazioni sociali, e che poi invece loro non si erano mai incontrati, non si erano mai visti. Noi partiamo dal silenzio, partiamo dal silenzio e non abbiamo immagini d'appoggio, se non concept, quindi degli schizzi che ci suggeriscono delle ambientazioni. La musica in questo senso ci suggestiona e ci aiuta nella narrazione. Diciamo che è un film che parla anche dei rapporti, delle relazioni umane e dei rapporti sociali, in una condizione di società più azzerata, quindi dove è possibile fare un punto generico sull'umanità, e quindi questa è un po' la nostra perlustrazione, è un gioco anche che parte dal mito del buon selvaggio, fino ad arrivare a cercare di ricostruire un po' con le logiche, le meccaniche della nostra società, però proponendole e percependole da un altro punto di vista. I disegni comunque arrivano prima e poi gli attori ragionano sul disegno, però non vedono niente, quindi non hanno su cosa mettere la propria voce. La cosa interessante è che comunque l'attore poi finisce per somigliare al personaggio e viceversa, perché hanno delle caratteristiche fisiche, come Lenny per esempio, che c'è comunque una faccia abbastanza grossa, c'è un mento abbastanza pronunciato, quindi l'attore, che è Cirio Priello, che ha fatto Lenny, per fare quella voce doveva fare in questo modo, spingere la mascella in avanti e quindi finisce proprio per somigliarci, quindi in un modo o in un altro è come se si incontrassero a metà strada, quindi l'attore e il personaggio diventano una cosa che prima non esisteva. Diciamo che Napoli in questo caso l'abbiamo abbastanza seppellita, però poi per forza di cose come tutte le cose che ci sono care riemergono e riemerge in forma di reperti architettonici e piccole citazioni, per chi conosce il territorio e la città ci sarà modo di andarle a identificare tutte queste cose e poi riemerge nei termini della sonorità napoletana che sembra avere un vigore sempre straordinario e quindi anche musicalmente, attraverso le note delle canzoni di un tempo che fu. Anche la colonna sonora di Iaia e Lenny è stato un lavoro di collaborazione, non sono stato l'unico ad occuparmene, ma ho diviso il lavoro con Alessandro Rack e Enzo Fonicello. È una colonna sonora ricca, come ricca è la vegetazione del film ed ha più anime. Parte dal folk e fa una commistione continua di linguaggi musicali, dove la nostra tarantella, le nostre radici incontrano suoni africani o provenienti dall'America, dagli Stati Uniti. Un altro lavoro che abbiamo fatto con dedizione è stato quello di assegnare a ogni personaggio uno strumento. in modo tale di riuscire a fare un character design musicale anche della strumentazione che abbiamo utilizzato. Ad esempio Iaia è per noi un'armonica, che è uno strumento di libertà, uno strumento trasportabile che riesce a essere malinconico, ma anche aggressivo e avere dei grandi guizzi. Oppure Lenny è uno strumento a corde inventato da noi che miscerà un po' il sound della chitarra, delle corde, del banjo ed è uno strumento che ha un'intonazione variabile, quindi è abbastanza stonato come il nostro personaggio. Il cinema si porta presso la sospensione dell'incredulità, uno va al cinema a vedere qualsiasi film di qualcosa che non esiste nella realtà e tende ad accettarlo perché comunque è narrazione, è narrativa, è immagine, è cinema. Dal punto di vista dell'animazione chiaramente tu puoi creare delle cose che non esistono in un modo completamente diverso, perché comunque non sono solo effetti speciali, ma è una scelta sia stilistica che tecnologica, l'approccio che è completamente diverso, perché in un modo o in un altro è come se il corpo fisico, la carne, fosse una sorta di limite rispetto alla fantasia, mentre invece con l'animazione puoi fare quello che vuoi in qualsiasi momento. Non strategicamente, ma de facto, e poi pensandolo e poi continuandolo, Napoli, Mad e i talenti di Mad hanno aperto una finestra proprio di completa novità sul terreno dell'animazione. Animazione che è un genere estremamente contemporaneo, presente, e come dire, di grande contenuto sia al cinema che nelle piattaforme, in Italia poco praticato, o praticato legittimamente solamente in qualche modo nella pubblicità, oppure in videoclip, oppure in serie tv per bambini. Quindi il cinema in animazione, per il cinema, e in più il cinema anche per adulti, in qualche modo non solo family, era un genere proprio assolutamente non praticato in Italia, per vari motivi produttivi, artistici, quindi Mad, la Factory Mad, del gruppo di artisti Mad hanno rotto questa barriera, rotto questo muro e, come dire, è avviato un processo molto positivo e virtuoso per noi stessi ovviamente in primis e speriamo anche per, come dire, le varie figure dell'animazione in Italia che ancora si devono risvegliare da questo punto di vista, ma ci stanno provando e noi saremo felici che arrivino altri film di animazione. Per ora Mad è, come dire, una cosa molto particolare nel panorama italiano e molto anche radicata in questa città, perché Napoli fa parte della miscela Mad. Sono già progetti per il futuro? Ah sì, non ci formammo mai, grandi progetti, devo dire.